Buonasera dal TG6, apriamo parlando del blitz di Beppe Grillo. Ieri in programma la tappa Giulianova per il tour del Movimento 5 Stelle per dire no al referendum costituzionale. In programma per il mese di ottobre tappa Giulianova per il tour che toccherà tutto l'Adriatico. Non si sapeva se sarebbe comparso, invece c'era anche lui. Beppe Grillo, vediamo. Era stato un tam-tam sui social ad annunciarne la presenza in forse fino all'ultimo. Beppe Grillo alla fine si è palesato a Giulianova, ultimo della coda di motociclette al seguito di Alessandro Di Battista che sta girando l'Italia con il tour Costituzione Cost to Cost per dire no al referendum di ottobre. Grillo, che aveva annunciato un passo di lato per dare spazio ai leader emergenti del direttorio, alla fine non ha resistito alla tentazione di tornare in campo e lo ha fatto dal palco della piazza del Lido di Giulianova davanti a migliaia di persone. Il fondatore del Movimento 5 Stelle non ha risparmiato stoccate al premier Matteo Renzi, ha parlato della situazione di Roma dove governa il 5 Stelle e ovviamente ha ribadito con forza il no alla riforma della Costituzione voluta dal governo. Vado a dire non è dire di no solo a questo referendum, è il vostro no dentro, è il vostro no. Voi dovete dire no quando vi dicono guarda puoi avere un avanzamento di carriera, magari non lo meriti, è lì che dovresti dire no, dovresti dire no a un aumento di stipendio. Voi dovete dire no, oggi il no è la forma più bella e più gloriosa della politica, che è no. E' da lì che comincia la vera rivoluzione che abbiamo iniziato da noi, noi non ce la faremo da soli. A Roma siamo entrati in un circuito pazzesco, Roma è la stratificazione della merda galattica, di tutte le qualità. Sul palco oltre a Grillo e Di Battista è salito anche il vicepresidente della Camera dei Deputati Di Maio, che potrebbe essere il prossimo candidato premier per i grillini, oltre ai rappresentanti 5 Stelle nel Consiglio regionale. A questo referendum costituzionale dobbiamo necessariamente votare no, perché l'obiettivo della riforma di Boschi e Renzi è quella di sopprimere la rappresentanza politica, cancellare la sovranità popolare e aumentare a dismisura il potere governativo rispetto agli altri due poteri. E questa mattina gli attivisti del 5 Stelle si sono ritrovati a Francavilla per un sit-in contro la riforma e la petrolizzazione della costa. E noi siamo qui a manifestare per far capire che siamo forse, anzi lo dico con certezza, l'unica forza politica in Italia che combatte proprio a tutela e a difesa del mare. E se i grillini tendono per il no al referendum, invece all'Aquila nasce un comitato femminile per dire sì al referendum e a battesimo lo ha tenuto la senatrice Stefania Pezzopane. Vediamo. Un comitato di donne per il sì, per il sì al referendum, quali sono le istanze portate? Ci mettiamo insieme tante donne che svolgono ruoli nelle istituzioni, ma anche donne che svolgono ruoli nella società, nella famiglia, nel mondo del lavoro, per dire sì a questa riforma. Tra qualche settimana voteremo per il referendum costituzionale. Questa riforma è una riforma che ha il timbro della politica buona al femminile, perché l'ha portata avanti il ministro Boschi, ma accanto a lei è stata fondamentale l'energia della Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Anna Finocchiaro, due donne diverse, di esperienze, generazioni diverse, che hanno dato una svolta a un immobilismo che durava da decenni. Tanti avevano provato a riformare la Costituzione e non ci erano riusciti. Con questa riforma finalmente si raggiunge l'obiettivo di contenere in maniera sensibile il costo della politica. Inoltre con questa riforma si semplifica la vita delle istituzioni, perché oggi approvare una legge con il ping pong tra Camera e Senato, che a volte comporta 5-6 passaggi, ovvero sia 2-3-4 anni per approvare una legge, fa sì che la vita delle istituzioni sia molto più semplice e semplificata. Il prossimo appuntamento del Comitato delle Donne quale sarà? Sarà un convegno, un'iniziativa pubblica. Oggi presentiamo le adessioni al Comitato, che sono già significative in pochissimi giorni, per poi organizzare un'iniziativa che parla proprio principalmente alle donne. Le donne hanno sempre prodotto cambiamento, perché sono quelle che di più soffrono quando tutto rimane fermo, perché quando tutto rimane fermo non c'è spazio per i diritti e per l'avanzamento della democrazia. Io confido molto nelle donne e nel fatto che le donne possano sostenere questa riforma. Ora passiamo alla cronaca e parliamo di malasanità. Una denuncia contro l'ASL per un caso di malasanità in Abruzzo. Lorenzo Di Nino, 69 anni, di Prato-La Peligna, è morto il 12 agosto scorso, perché nei 7 ospedali abruzzesi non c'erano sale operatorie disponibili e personali a sufficienza per effettuare l'operazione d'urgenza che gli avrebbe potuto salvare la vita. Di Nino lo scorso 12 agosto era stato colpito da un aneurisma alla Horta nella sua abitazione e dopo 5 ore di tribolazioni e rifiuti degli ospedali regionali è morto al suo arrivo all'ospedale di Terni in Umbria, dove era stato elitrasportato a denunciare l'accaduto e il figlio Cosimo che ha deciso di sollevare il velo sulla vicenda. Sul corpo di Lorenzo Di Nino è stata eseguita l'autopsia e i risultati arriveranno tra circa 40 giorni. Ancora cronaca, ci spostiamo a Pescara, tre barche sono andate a fuoco nella tarda serata di ieri, le fiamme partite da uno dei tre natanti ormeggiati sul lungo fiume in zona Ponte della Libertà si sono rapidamente estese alle altre due imbarcazioni e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni maggiori. La barca da cui è partito il rogo è stata distrutta e le altre due sono state danneggiate. Tutte sono di proprietà di residenti e sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della squadra volante della questura di Pescara per capire l'origine del rogo. Ancora cronaca, due serre estese su 180 metri quadrati complessivi per accogliere una piantagione di marijuana con 70 piante e altre fra i 2,80 metri e i 3 metri e una quarantina appena messe a coltura. Le hanno scoperte i carabinieri del nucleo investigativo di Teramo nelle campagne di Massignano in provincia di Ascoli Piceno arrestati due uomini, un marchigiano e un abruzzese con l'accusa di coltivazione di marijuana. I due sono stati sorpresi nella piantagione nell'azienda agricola di uno dei due dopo essere stati pedinati per giorni. La sostanza stupefacente immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 50 mila euro. I due hanno ottenuto gli arresti domiciliari e rimarranno a disposizione della procura della Repubblica di Fermo competente per il territorio. Ora parliamo di un'altra battaglia degli ambientalisti, un allarme per la possibile costruzione di un impianto per l'estrazione del gas in Val di Sangro nelle zone di Atessa e Bomba. Gli amministratori e gli ambientalisti dicono no e chiedono alla Regione una presa di posizione netta e decisa. Paolo Rensetti. Sindaco, siete preoccupati per quello che potrebbe accadere prossimamente, questa costruzione di questo impianto per l'estrazione del gas? La preoccupazione c'è perché di questo progetto che ne abbiamo discusso ampiamente negli anni precedenti avevamo messo in evidenza tutte le lacune e le deficienze che aveva. Con la sentenza del Consiglio di Stato del 2015 pensavamo che fosse un'idea completamente seppellita. Purtroppo da qualche mese abbiamo avuto notizia di un'istanza di una nuova società, la CME Energia, che ha presentato un nuovo progetto che prevede di nuovo l'estrazione del gas sotto il lago di Bomba in un bacino di dimensioni abbastanza rilevanti e con una costituzione di un'area Pozzi sul comune di Bomba la creazione di un gasdotto di 21 chilometri per la costruzione di una centrale di raffinazione del gas e petrolio sul comune di Pallieta nella zona industriale. E' ovvio che se ci preoccupava qualche anno fa oggi che investe tutta la vallata l'attenzione è ai massimi livelli perché il nostro territorio merita uno sviluppo socio-economico diverso da quello che paventa questa società. E' indispensabile che la Regione Abruzzo con decisione, con forze e con leggi adeguati blocchi immediatamente questo progetto sostenuto dalla volontà politico e tecnica dei comuni e delle associazioni. Questa è un'area che è storicamente soggetta a fenomeni franosi ed è storicamente instabile per cui tutti questi nuovi impianti proposti potrebbero andare a minare un equilibrio che è già di per sé precario ponendo sotto rischio elevatissimo tutti quei territori che si trovano nel comune di Bomba ma fino ad arrivare a tutta la Valle del Sangro quindi un progetto di questo tipo deve essere corroborato da solide basi deve essere appoggiato da delle specifiche osservazioni che non sono state presentate e quindi un rischio così elevato per noi è inaccettabile in questo contesto. Voi vi rivolgete alla Regione ma non solo? Certo, alla Regione, ai sindaci, a quelli che vivono il territorio e possono in maniera reale opporsi e contrastare questo tipo di attività diciamo vivere il territorio in maniera concreta e corretta. Se ne è parlato molto nell'ultimo periodo è scaduto il mandato dell'attuale amministratore unico di ACA Vincenzo Di Baldassarre che molto probabilmente non si ricandiderà allora inizia il toto candidature e negli ambienti del PD spunta il nome di Leombroni e intanto il sindaco di Francavilla che per primo aveva sollevato la polemica chiede il ritorno al Consiglio di Amministrazione. Vediamo. Il bilancio 2015 approvato lo scorso 27 luglio con l'astenzione dei sindaci di Francavilla e Pretoro è stato l'ultimo atto del triennio di Vincenzo Di Baldassarre alla guida dell'ACA. Di Baldassarre che ha firmato il concordato preventivo omologato dal Tribunale di Pescara e che assunse il ruolo di amministratore unico in un'azienda con un passivo di 100 milioni di euro ha già annunciato che non si ricandiderà a meno di clamorosi dietrofront dell'ultima ora. Dunque è iniziato il totonomi per la successione alla guida dell'ente d'ambito idrico che serve molti comuni del Pescarese, del Chietino e del Terramano. Il profilo del nuovo amministratore dovrà essere, si legge nel bando, predisposto da Di Baldassarre di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale o qualificazione scientifica e culturale di alto livello. Nelle ultime ore sembrano farsi più insistenti le voci su una possibile candidatura del geometra Chietino Giampiero Leombroni, già dirigente dei lavori pubblici al comune di Pescara, quando il sindaco era l'attuale presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Una candidatura questa che sarebbe caldeggiata dal Partito Democratico. A tenere banco però è anche lo scontro sull'assetto amministrativo dell'ACA, Antonio Luciani, sindaco di Francavilla, porta avanti la battaglia per il ritorno al Consiglio di Amministrazione eliminando così la figura dell'amministratore unico e ridando potere decisionale ai comuni. L'ACA non funziona, io parto da questo concetto. Oggi chi dice, chi afferma che l'ACA sia un'azienda che funziona dice il falso, perché come siamo messi a livello di depurazione, a livello di acqua potabile lo vedono i cittadini, lo vediamo tutti. Quindi è un'azienda che deve funzionare, deve diventare un'eccellenza d'Abruzzo. A me non interessa, non ha mai interessato la politica in questi giochini. Io dico solo che un'azienda che fattura all'incirca un volume d'affari di circa tra 50 e 60 milioni di euro non può essere lasciata nelle mani di un singolo soggetto che poi non risponde ai comuni soci. A Pescara si torna a parlare di emergenza prostituzione, a lanciare l'allarme, anzi a lanciarlo un'altra volta. È il consigliere della lista Teodoro, Massimiliano Pignoli. Ascoltiamo. Torna il problema della prostituzione nelle zone del centro cittadino, così come in periferia. Consigliere Pignoli, lei ha posto all'attenzione dei suoi colleghi politici, anche delle forze dell'ordine, quello che sta accadendo nelle ultime ore, nelle ultime settimane in città. Sì, avevo sollevato questo problema qualche mese fa, poi le forze dell'ordine, probabilmente seguendo anche le notizie appare sui giornali o seguendo le loro indagini, hanno fatto un blitz togliendo per il momento la questione della prostituzione nel comune di Pescara. A distanza di qualche mese siamo appunto da capo. Sono stato chiamato da alcuni cittadini che risiedono in via Enzo Ferrari e ovviamente in prossimità della pineta d'Annunziana e mi hanno fatto vedere, constatare come anche alla luce del sole ci sono queste ragazze che ovviamente stanno lì applicando praticamente il meretricio. Questo non è bello anche nei confronti dei pochi turisti che sono venuti quest'anno a Pescara e che ovviamente attraverso anche degli amici comuni mi hanno contattato dicendo che non è possibile che nell'immediata vicinanza del centro ci possa essere questo spettacolo piuttosto sgradevole alla cittadinanza e anche ai bambini i cui genitori non sanno più come giustificare questo comportamento di queste ragazze. C'è una soluzione per risolvere il problema? Ma la soluzione è che ovviamente le forze dell'ordine devono fare di nuovo quadrato tra di loro, ovviamente carabinieri, guardia di finanza, polizia, per individuare una strategia comune affinché si dibelli una volta per tutte questo triste spettacolo di queste donne. A Pescara dal 25 al 28 agosto torna la Festa dell'Unità e allora questa mattina una conferenza per presentare il cartellone degli eventi. Vediamo. Torna la Festa dell'Unità a Pescara quattro giorni di incontri, dibattiti per parlare anche con i cittadini delle varie problematiche. Un appuntamento importante di Pietro Antonio. L'occasione per ricreare anche quella comunità politica e per riavvicinare evidentemente i cittadini alla politica di questi tempi insomma che non è facile. Ci saranno ospiti nazionali a cominciare dal vicepresidente segretario del Partito Democratico Deborah Serracani sottosegretario Rughetti. Io invito tutti i cittadini simpatizzanti, gli iscritti proprio per cercare di capire, di approfondire tante tematiche che oggi insomma forse sono anche poco chiari. Ci saranno tanti momenti anche di divertimento, di spettacoli con concerti tutte le sere di livello nazionale chiaramente e quindi insomma sarà sicuramente un appuntamento da non perdere. Sì, siamo orgogliosi anche che questa festa si torni a chiamare festa dell'unità perché questo simbolo ha un valore ha il valore della comunità che si costruisce che fa squadra e che lavora per raccordare i cittadini con le istituzioni. Siamo orgogliosi di essere un partito che organizza in grado ancora di organizzare feste di questo tipo con grandi approfondimenti ma anche con momenti di serenità, di svago, di musica anche molto diretta ai giovani. Siamo un partito che è radicato nel territorio, che è radicato tra la gente anche in un momento in cui la politica sembra una cosa lontana, distante e noi la vogliamo assolutamente riavvicinare ai cittadini. E questi momenti sono necessari sia per costruire la nostra comunità e sia per rapportare questa comunità che c'è ai cittadini che ci chiedono delle risposte a volte anche solo di semplici. A volte i cittadini non chiedono di risolvere problemi complessi immediatamente chiedono di essere ascoltati e questo è uno dei momenti in cui la politica ascolta. Ed era stato annunciato in occasione del Festival dell'Arte a Castelli ci sarebbe stato un ospite speciale per l'apertura. Ieri si è svolta l'apertura l'ospite era Vittorio Sgarbi. Sentiamo. Abbiamo un importante primato questo Festival della Storia dell'Arte è l'unico in Italia e quindi ci mette al pari di un festival come quello di Modena per la letteratura, della filosofia quindi insomma tanti altri festival importanti perché Castelli è la patria della ceramica conosciuta in Italia e nel mondo e quindi è giusto che questa caratteristica venga fuori fortemente. Ma perché in Italia dove il panorama artistico è sterminato c'è ancora così poca cultura dell'arte? Questo riguarda la scuola riguarda la formazione in realtà se lei prende alcuni di questi che ho ricordato sono persone che hanno l'ambizione della carriera e che quindi non hanno l'idea di una storia dell'arte come insegnamento o come illustrazione di una civiltà per cui il problema una cosa è quello che noi abbiamo è una cosa sono gli storici dell'arte o gli studiosi d'arte che devono raccontarla. Inauguriamo il festival della storia dell'arte dal 19 di agosto fino al 26 sono sei serate tutte legate da un unico fil rouge che è quello dell'arte quindi ogni serata avrà un tema specifico per mettere in mostra tutto il mondo dell'arte sotto tutti gli aspetti soprattutto quella figurativa ma anche gastronomica e anche l'arte come strumento di integrazione. Quest'anno il festival è particolarmente ricco partiamo dalle conferenze serali la prima ovviamente è quella di Vittorio Sgarbi e procediamo con una serie di interventi che toccano argomenti disparati del mondo dell'arte anche l'arte castellana ma poi una serie di eventi che toccano altri ambiti dell'arte l'arte gastronomica l'arte musicale e perché no l'arte spiegata ai bambini una giornata importante con l'arte come strumento di integrazione sociale e di abbattimento di tutte le barriere con i ragazzi diversamente abili quindi un programma veramente per tutti i gusti. Ed ora apriamo la pagina dello sport domani finalmente l'atteso debutto del Pescara in Serie A il primo match è quello con il Napoli in casa all'Adriatico e allora c'è stata e si è conclusa la conferenza stampa del tecnico Oddo nelle sue dichiarazioni l'allenatore non si sbilancia sulla formazione e resta il nodo da sciogliere per il ruolo di centravanti tra Caprari e Manai in caso di presenza dell'attaccante albanese Caprari sarà come di consueto uno dei due trequartisti ascoltiamo Sono contento di come tutti i ragazzi di affrontare una nuova esperienza esperienza più bella quella della Serie A quindi siamo ansiosi di scendere in campo e di dare il massimo ma siamo molto molto sereni Dobbiamo scendere in campo con una mentalità vincente una mentalità che ci appartiene quella di provare a fare il massimo il possibile per far andare al meglio le cose poi ovviamente è il campionato di Serie A davanti c'è il Napoli però senza nessun tipo di timore reverenziale perché sappiamo quello che possiamo fare e quello che possiamo dare poi se saranno più bravi di noi è scontato se non saranno più bravi di noi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale è una squadra che gioca in assoluto il miglior calcio è una squadra che come noi ha mantenuto lo stesso stessi giocatori lo stesso impianto di gioco quindi ha un grande vantaggio come ce l'abbiamo noi e quindi è una squadra che oltre ad essere pericolosa perché ha giocatori forti è una squadra pericolosa perché ha dato continuità a quello che ha fatto l'anno scorso non sono abituato a guardare in casa degli altri non credo che possa cambiare le cose per 11 ragazzi che scendono in campo e parlo del Napoli se c'è un po' di contestazione o no loro scendono in campo per vincere come lo facciamo noi ma si riferesti per il Pari no io non firmo mai per il Pari io non firmo non ho mai firmato prima per una cosa perché nel calcio nulla è scontato quindi non mi piace pensare prima di poter raggiungere un obiettivo quando può essere anche maggiore dell'obiettivo che ti prefiggi quindi l'unico nostro obiettivo è quello di fare una buona gara e di dare il massimo e poi si vedrà e a parlare oggi c'era anche il tecnico del Napoli Maurizio Sarri che ha analizzato le prospettive della squadra per la nuova stagione messo in guardia sulle difficoltà della gara di domani assenti Giaccherini, Tonelli, Giorginio Sarabaldifiori a giocare in mediana e in attacco l'ex Insigne sembra ora favorito su Mertens ma le aspettative sono quelle di riuscire a fare 101% delle nostre possibilità poi vediamo questa cosa può corrispondere nel panorama del nostro calcio a Napoli ci sono aspettative elevate il resto dell'Italia ci vede ridimensionati ho visto la gazzetta che ci dà il quarto posto nella griglia l'anno scorso ci dava Quintos quindi speriamo che la relazione sia la stessa ho sentito un giocatore della Juventus parlare delle quattro squadre più forti d'Italia e noi non ci hanno minato ho sentito un esponente della proprietà Juventus dire noi siamo nettamente più deboli dell'anno scorso quindi la visione c'è del Napoli all'esterno dal Napoli è questa che siamo una squadra da quarto vinto posto e noi lavoreremo per fare il 101% delle nostre possibilità e per fare in modo che questo 101% vada a smentire un po' questo la partita di domani è una partita insidiosa per noi perché Pescara è una squadra organizzata con un allenatore che secondo me gli ha dato tanto e ho dato un gioco è una squadra brillante, rapida è una squadra già in buona salute da quello che ho visto una squadra piena di entusiasmo perché sicuramente il ritorno in Serie A dà entusiasmo alla città e quindi un ambiente riesce anche a trasmettere sensazioni estremamente positive e quindi per noi è una partita difficile e quello di domani sarà un debutto assoluto in Serie A per tanti giocatori ma anche per il tecnico Massimo Oddo che a Napoli ha vissuto importanti anni della sua carriera vediamo come se non bastasse l'emozione per il debutto per la prima giornata di campionato in un'atmosfera da tutto esaurito e contro la squadra vice campione d'Italia quella di domani sarà per tanti giocatori del Pescara il giorno del debutto assoluto in Serie A lo sarà per il capitano Ledyan Memushai che dopo aver accarezzato la massima serie col Chievo senza però mai giocare via pro dalle soglie dei 30 anni tra i potenziali titolari sarà la prima volta in assoluto anche per i difensori Francesco Zampano e Dario Zuparic e il fantasista libico Ahmad Ben Ali a loro vanno aggiunti altri calciatori che pur avendo già debuttato nella massima serie hanno collezionato numeri streaming in siti di presenze come le 8 di Verre le 7 di Cristante le 4 di Manai e c'è chi come Alessandro Bruno sogna un ingresso in campo nella ripresa per l'esordio assoluto a 33 anni un'età in cui molti sogni calcistici vengono riposti definitivamente nel cassetto altri deb oltre agli ex primavera saranno i vari Vitturini Selasi, Mitrizza e Nicastro quest'ultimo indisponibile per domani non ci sarà neanche Ugo Campagnaro che è a un passo dalle 200 in A e avrebbe indossato i panni dell'ex e allora a livello di esperienza il Delfino si affiderà alle 115 presenze del neoportiere Bizzarri e alle 41 del difensore Birachi cui vanno sommate le gare di liga dello scorso anno da un lato l'emozione certo ma dall'altro anche l'entusiasmo per quelli che sono punti di svolta nei percorsi di crescita professionale di ciascun giocatore e poi un altro debuttante in panchina Massimo Oddo anche se difficile considerarlo tale vista la carriera da calciatore costellata da trionfi e l'appellativo da allenatore predestinato una qualità che questa stagione aiuterà a testare una cosa è certa rispetto a quattro anni fa il Pescara che si presenta ai nastri di partenza ha mantenuto ossatura e identità della scorsa stagione e non è un agglomerato eterogeneo di giocatori malamente assemblato oltre agli innesti già perfezionati la rosa va ulteriormente potenziata e su questo si lavorerà nei prossimi 10 giorni ma per le prossime 36 ore il mercato passa in secondo piano è il momento del calcio giocato è il momento di Pescara-Napoli Ora invece passiamo alla Lega Pro Danilo Bulevardi è solo l'ultimo in ordine di tempo ad aver fatto la tratta che da Pescara porta a Teramo il centrocampista originario di Mazzara del Vallo dopo una stagione sfortunata all'Aquila vuole rilanciarsi in bianco-rosso Jacopo Feorcelli Danilo Bulevardi dal Pescara a Teramo inizia questa nuova esperienza con quale aspettative? Sono molto contento Innanzitutto perché l'interesse della società del termo era veramente forte ai miei confronti e quindi sta cosa mi ha fatto molto piacere e non ci ho pensato neanche un minuto a venire qui ma aspettative sono fiducioso sono carico, sono molto ottimista penso, vorrei anzi riscattarmi subito perché l'anno scorso è stato un pochettino così e così quindi quest'anno cercherò di dare il mio meglio e magari sperare che questo sia un trampolino di lancio per me per continuare a fare bene e avere magari ambizioni molto più alte Durante la prima parte di questo mercato il Pescara sembrava non volerti liberare o comunque voler puntare un po' sui te come hai vissuto questa prima parte di preparazione con i Biancazzurri? Sono stato tranquillo mi sono allenato bene aspettavo notizie perché sapevo che magari lì non trovavo spazio aspettavo magari una squadra che mi dava un po' di fiducia che mi faceva un po' ricominciare di nuovo a giocare con continuità spero qui di giocarmela di magari fare più partite possibili per dare un contributo alla squadra il ruolo di Danilo Bulevardi perché l'anno scorso tu hai giocato mezzala preferibilmente anche centrale in un centrocampo a 5 a volte hai fatto anche l'esterno a destra ma il ruolo ideale di Bulevardi qual è? A me piace fare a mezzala mezzala a destra, a sinistra sono sempre giocato a mezzala a destra però mi adatto dipende dalle situazioni ho giocato anche esterno il quinto ho fatto e mi sono trovato bene quindi se mi proponessero magari di fare pure l'esterno non avrei problemi e ora ci occupiamo delle Olimpiadi di Rio 2016 in finale l'Aquilana Maria Enrica Spacca con la staffetta femminile 4x400 servizio è prevista alle 3 di questa notte la finale della staffetta femminile 4x400 in cui correrà anche l'Aquilana Maria Enrica Spacca tutta la città è in fermento dopo che il quartetto azzurro ha centrato la finale alle Olimpiadi di Rio il quartetto composto oltre che da Enrica Spacca anche dalla Kigbolu dalla Folorunzo e dalla Greno ha stabilito anche il record italiano assoluto con 3.25.16 cancellando il 3.25.71 del 1 agosto del 2010 alle europee di Barcellona quella di oggi sarà dunque una notte in sonne per rimanere attaccati ai televisori e gustare la finale olimpica dell'Aquilana Maria Enrica Spacca ora ci occupiamo di basket è iniziata da pochi giorni la stagione del Teramo Basket prossimo a disputare il girone C di B-Silver tra i confermati dello scorso campionato c'è il veterano Enrico Gaeta Gaeta a 40 anni si riparte con grande entusiasmo e con un'ulteriore sfida proseguire il percorso di rinascita rinascita che ha voluto Teramo dalla scorsa stagione si si diciamo che per me esatto è sempre comunque una sfida con gli altri ma anche con me stesso quindi io lo spirito è sempre quello di competere di dare una mano alla squadra col mio apporto quindi finché sarà utile io ci sarò insomma poi sarebbe di nuovo Teramo in Serie B dopo tanti anni quindi una grandissima soddisfazione di averla raggiunta l'anno scorso e adesso di farla un grande orgoglio che campionato sarà? siete nel girone che non è quello delle altre abruzzesi vi confronterete con tante laziali e poi ci sono anche le squadre isolane sì il girone sud dal lato del Lazio non lo conosciamo tantissimo perché in questi anni diciamo anche le amichevoli che si facevano si facevano sempre con le squadre anche di Serie B però dell'Abruzzo sappiamo che la maggior parte le squadre sono nel Lazio piano piano diciamo che partiamo senza fare proclami però ovviamente poi durante il campionato vedremo un attimino anche chi ci troviamo di fronte e cerchiamo di fare il massimo prima di campionato subito contro l'ex capitano storico del Teramo Gianluca Lulli ma soprattutto contro una corazzata sì infatti iniziamo subito la prima partita davvero difficile in casa con Palestrina certo Teramo incontrerà un po' il suo passato per il capitano Lulli e sarà subito ci intufferemo subito in questo campionato in questa nuova realtà e questa categoria quindi saremo messi subito a dura prova e cercheremo di passare l'ostacolo il Tg6 finisce qui il prossimo appuntamento con l'informazione torna lunedì nell'appuntamento delle 14 grazie per essere stati con noi in questa nuova e la prossima e la prossima e la prossima Grazie a tutti.